Qual è il primo titolo più importante, insomma, cinematografico, il primo film importante che hai doppiato? Il primo film più importante fu La Bella e la Bestia, della Disney. Parliamo, ok, l'animazione. Lì, sì, l'animazione, l'animazione. Delle primissime cose importanti che facevo, quindi per il cinema, un film Disney, insomma, rimarrà sempre nella storia. Certo. Facevo Chicco, la tazzina di te, sbreccata, e fu una cosa bellissima, ho un grandissimo affetto per il direttore e tutto il cast che mi coccolava, ero così piccolino che... Beh, un personaggio molto simpatico, comunque, con Chicco, ci stavi, cioè, benissimo, veramente. Esatto, poi, insomma, dopo tanti, tanti, tanti anni mi richiamarono, perché fecero la versione digitale rimasterizzata, con l'aggiunta di alcuni pezzi, e purtroppo io ero cresciuto, e Chicco non lo potevo più fare. Quindi, non so se hanno ridoppiato solo i pezzi aggiunti, o se hanno addirittura ridoppiato tutto il mio personaggio. Non lo so. Successe un aneddoto. Successe la stessa cosa a mio nonno, pensate. Quando lui doppiò Bambi, nella prima versione, la voce di Bambi piccolo. Poi, non mi ricordo che successe qualcosa come vent'anni dopo, una cosa così, lo ridoppiarono, e lui era cresciuto, ovviamente non poteva più fare il piccolo Bambi. E niente, così, è successa la stessa cosa, stessa storia. Eh, vabbè, questa è l'altronde, prezzo ogni tanto. Eh, quando cresci, il tempo passa per tutti, come si dice. Saresti anche potuto rimanere piccolo, dai, anche tu, te lo sai cercare. Hai un genere cinematografico preferito, insomma, o a furia di doppiare un po' tutto? Dici che mi sono fatto una capatanta? Sì. Mi piacciono praticamente tutti. Mi piace molto, molto il fantasy, mi piace la fantascienza, tantissimo. I film d'azione, e poi a scalare i thriller, horror thriller, e poi tutti gli altri, sì. Sì, un po', non meno quelli romantici, un po', magari sdolcinate, un po' drammatici, quelle storie d'amore, platoni, quelle cose così, insomma. Quelle me le guardo un po' malvolentieri, però non che, ovviamente, se mi capita, se devo... Ti riascolti mai al cinema in tv, vedere un attimino fuori della sala, no, come un po' l'effetto? Sono uno di quei pazzi che, dopo sei o nove ore passate in sala di registrazione, quindi al buio, nell'oscurità, davanti a un microfono, la voce nell'ombra, uscirebbe e andrebbe, praticamente, a ficarsi in una sala di registrazione, no, di registrazione cinematografica. E l'ho fatto tante volte, e i miei colleghi mi pigliano per pazzo. Mi dicevo, ma che sei scemo? Dopo una giornata così, io me ne vado a casa, manco la tv voglio accendere, non ce la faccio più! E io invece vado al cinema, ma principalmente per, posso essere sincero, per criticarmi. Mi vado a sentire quello che ho fatto, vedere cosa ho combinato, ma non per critica al direttore di doppiaggio, assolutamente, assolutamente, è una cosa mia. Per una crescita tua? Sì, sì, è un mio modo di studiarmi e cercare di capire dove potevo fare un po' meglio, dove potevo dare un po' di più, dove invece magari avevo esagerato. Ma cose mie, che poi comunque, se il direttore dice che va bene, va bene, quindi, con tutto il rispetto. No, ma non sei così poi pazzo, insomma, sei in buona compagnia. Ah, sì. Cioè, anche Flavio è di quello... Ah, pure lui? Sì, sì, beh. Eh bene. La traccia di prima, insomma. Fondamentalmente poca autostima e troppa autocritica. Questo penso sia il mix di elementi che poi ci spingono, insomma, persone come me a sentirsi per criticarsi. No, vabbè, ma dai, confermo comunque che evidentemente non è un caso, insomma, se sei professionista vero e proprio. Si vede, si vede. No, non, 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 non.